Cosa significa promuovere uno studio autoregolato? Significa aiutare gli studenti a rendersi sempre più autonomi nella gestione del proprio studio ed essere in grado di assumersi responsabilità nella scelta di come costruire il proprio apprendimento e di come esprimerlo. Questo è ancora più vero nella scuola secondaria di primo e secondo grado e soprattutto quando la didattica è a distanza e in un periodo in cui gli studenti hanno proprio bisogno di assumere maggiore responsabilità ed essere più autonomi. Il webinar ci aiuterà a scoprire strategie soprattutto metacognitive per la gestione dello studio, strategie di pianificazione, monitoraggio e verifica e nello stesso tempo andremo a scoprire alcune modalità per promuovere una costruzione della conoscenza più significativa e magari più attraente per gli studenti. In ultima analisi andremo a cogliere quali modalità differenziate possiamo proporre agli studenti per esprimere la loro conoscenza.